Nadia Battocletti è veramente molto in forma in questi campionati mondiali perché si è qualificata per la finale dei 5.000 metri arrivando tra l'altro vicinissima già al suo record italiano infatti Nadia a fine luglio ha corso i 5.000 metri in 1.41.30 mentre adesso i campionati mondiali è arrivata a mezzo secondo di distanza cioè 1.41.78 tempo che le valsa la settima posizione in batteria e dato che di ogni batteria vanno soltanto le prime 8 in finale senza tempi di ripescaggio perché da quest'anno 2023 sono stati eliminate tempi di ripescaggio dei 1.500 metri in su ha avuto quindi accesso appunto alla finale in una batteria tra l'altro che sono andate veramente molto veloci le atlete perché c'è stato già un bellissimo scontro quasi da finale mondiale anche se ovviamente non è detto che andrà così la finale tra l'olandese Sifanassan e la keniana Fate Kipegon arrivate a soli 2 centesimi di distacco a 14.32 e 29 l'olandese e con 2 centesimi di ritardo poi la Kipegon certo che rimane la favorita la Kipegon dato che ha il record mondiale fatto tra l'altro quest'anno con 14.05.20 però la Sifanassan è una delle più forti mezzofondiste di sempre e potrebbe lottare proprio per il podio per l'oro soprattutto e ovviamente molto dipenderà da come verrà impostata la gara però attenzione perché non è detto che sia uno scontro a 2 la finale ricordo che in finale ci sarà anche Gudaf Zegai che è giusto la quarta migliore atleta di sempre nei 5.000 metri però la Zegai non ha fatto nulla di eclatante durante le batterie perché si è trovata nell'altra batteria che è andata decisamente a ritmi più lenti pensate che Beatrice Cebet è arrivata prima con 14.57 quindi parliamo di decine di secondi più lenta rispetto alla batteria della Sun e della Kipegon tra l'altro in questa prima batteria c'era anche Ludovic Cavalli che nonostante le tre fatiche dei 1.500 metri ha scelto comunque di scendere in pista nei 5.000 metri che poi non è riuscita ad accedere alla finale perché probabilmente scarica dai giorni precedenti e infatti è stata oltre 20 secondi dal primato personale arrivando 17 in batteria con 15.32 però davvero a Ludovica non si può chiedere assolutamente di meglio perché ha già fatto cose spettacolari più volte tra l'altro durante i 1.500 metri quindi tantissima roba a Ludovica si è stata fantastica in ogni caso la finale è attesa adesso per sabato sera il 26 agosto alle 20.50 dove vedremo probabilmente una gran bella gara molto interessante e dove tra l'altro Nadia potrebbe regalarci un nuovo record italiano mi raccomando seguite Pillole di Atletica per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi contenuti che pubblico e grazie mille se mi state seguendo grazie mille se lo farete anche da questo esatto momento ciao ciao